Ciao amici di SirCadget, eccoci a scoprire un altro prodotto molto interessante, si chiama Huawei P8 Lite 2017, o forse Honor 8 nella versione di Huawei Low Cost, però sarebbe un nome un po' lungo, un po' troppo lungo, perché essenzialmente le curve di Huawei P8 Lite ripercorrono, proprio ricalcano quasi esattamente, quasi in modo speculare quelle a cui siamo abituati da Honor 8, in questo caso con un colore bianco molto accattivante tra l'altro, però vedete stessa posizione del sensore dell'impronta digitale tratto con questa parte stondata, molto carina esattamente come Honor 8, le curve, vedete, insomma, le finiture ricordano molto quelle di Honor, con la differenza però che rispetto a Honor 8 non c'è la doppia fotocamera, c'è un solo sensore della fotocamera, tra l'altro da 12 megapixel, in grado di girare video a 1080 pixel, ma diamo un occhio un po' alla struttura del telefono, allora, lato molto pulito, il cassettino vi dà la possibilità di usare due SIM card, oppure una SIM e una micro SD, sulla parte superiore attacco delle cuffie e secondo microfono per il bilanciamento del rumore, da questa parte invece volume rocker, quindi controllo del volume e il pulsante di accensione, sulla parte inferiore connettore micro USB, altoparlante e microfono, sembrano due altoparlanti ma poi vedremo, insomma, in realtà che la musica esce solo da questo lato. Sulla parte frontale, la fotocamera frontale ottima, da 8 megapixel con apertura 2.0 e con la possibilità di riprendere video a 1080 pixel. Devo dire che nella dotazione tecnica c'è un processore che è un Kirin 655, è un octa-core con 4 core da 2,1 GHz e 4 core invece da 1,7. A completare la dotazione di bordo c'è la RAM che invece è di esattamente 3 megapixel, scusi 3 megapixel, 3 gigabyte con una memoria interna da 16 giga, però come detto che si può espandere attraverso una micro SD. La micro SD tra l'altro ufficialmente permette di raggiungere fino a 256 giga di memoria. Vediamo il telefono, allora l'aspetto è molto 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 familiare, insomma è quello della Emui 5.0 perché ecco un dettaglio che non vi ho detto è che questo telefono, info sul telefono, eccolo qua, arriva con versione di Android 7.0 con la versione di Emui, lo vedete qua, 5.0, il che vuol dire che avete insomma tutti i goodies, tutte le cose buone a cui ci ha abituato Huawei anche sul Mate 9, ovviamente per alcuni aspetti in formato ridotto. Allora qui vediamo ad esempio la possibilità di scegliere tra il display con il drawer oppure no, cioè semplificato oppure con il cassettino delle applicazioni. E poi vedete la possibilità anche di gestire, lo vediamo nell'assistenza intelligente, alcune funzionalità legate al movimento, poche in questo caso perché c'è solo il capovolgimento per zittire il telefono, l'utilizzo del telefono con una mano sola, sapete che muovendo essenzialmente il dito sopra la doc avete la possibilità di ridurre la dimensione della stessa. E poi c'è la possibilità di utilizzare il comando vocale, quindi potete usare i comandi vocali e qui in questo caso io non ho attivato questo tipo di funzionalità. E ancora il comando della cuffia intelligente che permettono l'esecuzione di diverse funzionalità a seconda di quello che state facendo con il vostro telefono. È possibile per aggiungere i brani ai preferiti, insomma avete il comando delle cuffie intelligenti che ha un uso un pochettino più sofisticato del tasto più o meno e del tasto centrale delle vostre cuffie. C'è come detto il sensore dell'impronta digitale, che come potete vedere vi permette anche di scattare una foto o un video quando toccate il sensore, di rispondere ad una telefonata toccando il sensore sulla parte posteriore, di insomma essenzialmente spegnere le sveglie, ma vedete che anche scorrendo essenzialmente sul sensore avete la possibilità o di mostrare il pannello delle notifiche o di scorrere nelle foto quando siete nella galleria. Quindi insomma essenzialmente un oggetto completo tenendo conto che online questo smartphone si trova oggi intorno ai 210 euro, il prezzo ufficiale invece è di 249. Comunque per la dotazione che trovate a bordo di questo telefono io devo dire che insomma è assolutamente niente male. Il processore Kirin 655 si comporta bene in quasi tutte le situazioni, vedete qui ha essenzialmente memorizzato ormai la pagina, quindi vedete che scorre anche molto velocemente, anche la reattività al comando è molto elevata. Vediamo un po' come si comporta invece con l'audio, per farlo andiamo a sentire per qualche secondo Radio Number One, vediamo. Allora, volume tutto sommato abbastanza alto, definizione del suono mediocre, vedete che insomma quando tappate questi fori l'esecuzione della musica praticamente viene azzerata perché in pratica ci sono queste ghiere che potrebbero far pensare a casse stereo, in realtà da questa parte c'è il microfono, da quest'altra invece l'altoparlante. Poi per una scelta estetica si è scelto di bilanciare in questo modo il design posteriore. Alcuni modelli di Huawei utilizzano anche questo altoparlante per la riproduzione musicale, non è il caso invece di P8 Lite 2017. Allora, altri dettagli, c'è un negozio dei temi, chiamo negozio in realtà insomma potete scegliere di scaricare i vostri temi per la personalizzazione del vostro telefono, cosa sempre gradita. A proposito di strumenti, avete anche la bussola, qui adesso mi chiede di fare la insomma la calibrazione, non la farò in questo momento, vi può servire da bussola ma vi può servire anche da bolla essenzialmente per, ah eccolo qua, guardate che era riuscita ad apparire la bussola, adesso insomma vediamo se fingendo e prendendo in giro il telefono riuscirà a far apparire la bussola, ecco vedete bussola che è comparsa con questo swipe invece si trasforma in pratica in una bolla digitale. Vedete se avete bisogno di fare qualche misurazione, qualche installazione, vedere l'inclinazione di un oggetto potete usare questo oppure in questo modo utilizzate insomma la vostra bussola. A proposito di strumenti c'è anche la radio FM che adesso non funziona perché non ci sono le cuffie collegate e poi anche la possibilità di accendere o spegnere la torcia. Allora non abbiamo ancora trattato l'argomento fotocamera, lo facciamo immediatamente, vedete allora l'accensione della fotocamera non velocissima, rifacciamo, allora è tutto chiuso adesso quindi non ci sono applicazioni aperte, vedete insomma discretamente veloce ma non velocissima. Per quanto riguarda invece scatto e messa a fuoco, guardate voi in quanto tempo appare in questo riquadro la foto una volta scattata, allora io scatto l'immagine e tac vedete che il tempo di memorizzazione è veramente praticamente istantaneo. Avete la possibilità di utilizzare anche la modalità selfie perfetto con cui dovete scattare delle foto da diverse angolazioni e dico io divento come Brad Pitt, cioè con lo scatto di una fotografia con quel sistema il mio selfie sembra un selfie di Brad Pitt, è veramente quasi miracoloso o forse no sto dicendo solo un sacco di stupidate. A bordo ovviamente di default trovate anche l'installazione di quelle che sono tutte le applicazioni di Google ma quello ormai lo sapete. L'aggiunta è che adesso negli ultimi Huawei ci sono anche le applicazioni presentazioni fogli e documenti che invece in passato vi dovevate scaricare da soli. Velocità come detto di funzionamento generale discreta, interfaccia secondo me è carina, richiama la stessa di Mate 9 come detto però in versione semplificata. Vedete qui potete reimpostare attraverso il menu i vostri quick toggle quindi decidere quali toggles mostrare e quale no. Insomma per 209 euro che il prezzo online 249 è il prezzo ufficiale io sono convinto che P8 Lite 2017 sia veramente uno dei migliori acquisti che possiate fare in questo momento sul mercato. È vero che in questa fascia di prezzo trovate un sacco di prodotti in arrivo dal mercato cinese con caratteristiche molto avanzate ma pochi hanno la cura del dettaglio estetico che vi offre Huawei e anche perché no la qualità a cui Huawei ci ha abituato per quanto riguarda l'interfaccia. C'è da auspicare ovviamente anche che diciamo gli aggiornamenti di questo smartphone poi siano garantiti nel tempo. In questo Huawei ha speso parole importanti però non vi nascondo che non mi dispiace per niente anzi promosso da Mr. Gadget.